Ciao, sono Giulia Braschi e ti do il benvenuto su I Love Italian Shoes Web News. Audrey Hepburn o Jessica Rabbi? Classe ed eleganza o grinta ed audacia? Come si dividono le shows edit italiane? Un interessante studio commissionato da Sarenza.it ha voluto esaminare il profilo delle donne che si sono dimostrate grandi appassionati di scarpe, ma questo già lo sapevamo. Il risultato? Le donne italiane non si riconoscono appieno in nessuna delle due categorie, ma in uno stile del tutto personale che le rende ora Audrey Hepburn ora Jessica Rabbi, mantenendo la stessa classe, lo stesso stile e soprattutto non oscurando mai la propria sfaccettata personalità. Scarpe Un titolo, una garanzia. Il nuovo libro della blogger giornalista di moda Ilaria Danieli, dedicato alle show edit nostrane, che ha raccolto tutti i modelli che hanno fatto la storia dagli anni 40 ad oggi, per chi ama le scarpe e chi non ne ha mai abbastanza. Scarpe Rapunzel Chi non ricorda la sfortunata principessa protagonista di una delle più celebri fiabe infantili rinchiusa in una torre? E ora la sua rivincita, da bellezza isolata a protagonista di una calzatura. E le sue celebri lunghe trecce dorate? Non serviranno più al principe per rapirla, ma si avvolgono lungo il dorso del piede e delle dita per una vera principessa dei giorni nostri. Questa settimana su I Love Italian Shoes Web TV, mercoledì nella rubrica Do You Like It? Qual è la scarpa più sexy del mondo? Come nasce una tendenza? Giovedì su Lacy's. Una nuova provocazione grazie alla 12 coach Veronica Benini. Venerdì su Social Shoes. Su iLoveItalianShoes.tv tante anticipazioni, notizie, curiosità legate al mondo della calzatura e tanto altro ancora. Siamo le scarpe? Sei già su iLoveItalianShoes.tv